ciao ragazze allora nuovo video in questo video vorrei mostrarvi come realizzare questo modulino se metti a fuoco eccolo qua semplice veloce compatto che potete utilizzare sia come modulo di un bracciale sia come orecchino come ciondolino e molto versatile eccolo come pochissimo materiale avremo bisogno di perle da 6 mm solo 4 gem duo che potete benissimo sostituire con delle diamon duo 11 0 che io utilizzo di due colorazioni e 15 0 più per effettuare l'orecchino se volete utilizzare la goccia io uso questa qui in resina che ho acquistato dall'uvibiju allora cominciamo subito il primo passaggio da fare è quello di infilare sul nostro ago fatemi guardare bene allora una rocaille 11 0 che utilizzo argento una perla da 6 mm e una rocaille 11 0 argento e una gem 2 ecco questa è la sequenza questa sequenza dovete ripeterla per altre tre volte quindi per un totale di quattro volte chiudere a cerchio fare i soliti nodini ecco qui la sequenza che dovete infilare facendo attenzione che le gem 2 abbiano comunque la la gobetta rivolta tutte e quattro dalla scala stessa parte chiudiamo a cerchio e nodi allora ecco qui come ci ritroveremo fuoriusciamo dalla 11 0 che precede la perla inseriamo sul nostro ago 5 rocaille 11 0 3 4 5 io sto usando sempre quelli argento e ci infiliamo nella rocaille 11 0 successiva quindi quella che si trova prima dopo la perla ce la posso fare la faccio ecco qua ci inseriamo anche nella gem 2 e nella rocaille successiva e facciamo questo passaggio anche qui qui e qui dopodiché dobbiamo rivolgere questo gruppetto verso l'interno del lavoro e vi dico che cosa fare allora quello che dobbiamo fare adesso è quello di unire questi cinque gruppi questi quattro gruppetti da cinque perline quindi ripassiamo all'interno del gruppetto da 5 lo rivolgiamo verso l'interno ed entriamo direttamente nel gruppetto da 5 successivo sempre verso l'interno no sbagliato scusate allora praticamente dovete passare all'interno delle cinque perline senza passare dalle perline che si trovano prima e dopo la gem 2 praticamente dovete passare solo nei gruppetti da cinque e rivolgere questi gruppetti all'interno del lavoro e adesso ci ho passato ci sono passata una volta ci ripasserò una seconda volta però con la telecamera davanti non è così semplice quindi devo spegnere la telecamera allora una volta uniti tutti i gruppetti dovete fuoriuscire dalla terza rocaille delle cinque inserire una rocaille 11 0 sempre della stessa colorazione e inserirci nella terza rocaille del gruppetto da 5 successivo vedete prendiamo un'altra rocaille 11 0 e ci inseriamo nella terza si mette a fuoco magari è meglio ecco qua e ci inseriamo nella terza rocaille del gruppetto da 5 successivo ecco qua e lo facciamo altre due volte ecco qua come ci ritroviamo già così sarebbe molto carino come orecchino al lobo comunque come modulino sempre per un bracciale sarebbe già carino così però noi dobbiamo continuare poi usciamo da una perla inseriamo tre rocaille 11 0 io le sto usando sempre della stessa colorazione argento quindi ce la posso fare oggi allora usciamo dalla perla tre rocaille 11 0 e ci inseriamo nel foro alto della gem duo ecco qua altre tre rocaille 11 0 e ci inseriamo nella perla tre rocaille 11 0 e ci inseriamo nella gem duo e facciamo questo passaggio per tutto il giro ecco qui adesso fuoriusciamo dalle tre rocaille che abbiamo appena inserito quindi prima della gem duo scusate adesso dobbiamo inserire ce la posso fare oggi dobbiamo inserire cinque rocaille 11 0 io ne inserisco due argento una rosa e due argento ecco qua e ci infiliamo nelle solo nelle due rocaille successive che si trovano dopo la gem duo adesso inseriamo cinque rocaille 11 0 sempre argento le utilizzo io e ci inseriamo saltando la prima nelle due rocaille prima della gem duo e si andrà a formare la coroncina sulla perla ripetiamo cinque rocaille 11 0 due argento una rosa e due argento e ci inseriamo nelle due rocaille dopo la gem duo solo nelle due rocaille inseriamo cinque rocaille 11 0 argento e saltando la prima perla la prima perlina 11 0 ci infiliamo nelle due ecco qua e facciamo questi due passaggi per tutto il giro allora ecco qua che il nostro modulino è quasi pronto manca soltanto la decorazione quindi noi adesso usciamo dalla quarta rocaille quella che forma la coroncina sulla gem duo in pratica scusate che devo girare il modulo perché le bobbette sono di qua in pratica noi non dobbiamo toccare le cinque rocaille che si trovano sopra la perla quindi fuori usciamo dalla quarta perlina rocaille 11 0 prima del gruppetto da 5 che si trova sulla perla spero di essermi spiegata come al solito allora fuori uscendo da questa perlina inseriamo 7 rocaille 15 0 e ci inseriamo nella rocaille centrale del gruppetto da 5 che abbiamo messo inizialmente ecco qua inseriamo altre 7 rocaille 15 0 4 5 6 e 7 e ci infiliamo tralasciando le 5 rocaille 11 0 che ci sono sulle perla che c'è sulla perla qui in questa rocaille allora 1, 2, 3, 4, 5 6 e 7 quindi come ho detto in questa rocaille e passiamo all'interno di tutte le perline vedete come si fa? si forma la decorazione adesso passiamo all'interno di tutte le perline fuori usciamo da questa rocaille e facciamo anche la decorazione anche qui qui e qui ecco qui che abbiamo fatto la decorazione adesso dobbiamo mettere la goccia fuori usciamo dalla rocaille 11 0 di punta che si trova sulla diamon duo sulla gem duo madonna santissima allora inseriamo 2 rocaille 15 0 la goccia ecco qua 3 rocaille 15 0 e ci inseriamo all'interno della goccia solo della goccia solo della goccia poi prendiamo altri 2 rocaille 15 1 e 2 e ci inseriamo dalla parte opposta nella rocaille dalla quale siamo partiti ecco qua mi ha aggiunto 3 scusate che metto a posto comunque ci vediamo dalla parte opposta per fare il cappietto dell'orecchino ecco qui adesso facciamo l'unica cosa che ci manca da fare il cappietto io lo faccio con se rocaille 15 0 fuoriesco dalla perlina centrale e rientro dalla parte opposta e ripasso un paio di volte quindi 1 2 3 1 2 3 ecco qua adesso ripasserò un'altra volta all'interno della lavorazione perché noto che rispetto a questa mi è uscita un pochettino più morbida comunque ripasserò di nuovo per aggiustare il tutto e niente ragazze allora il modulo mi piace tanto anche se questo tutorial è stato un po' un po' un casino perché pensavo di fare un tutorial facile invece mi è risultato alquanto difficile per quanto riguarda alcuni passaggi e niente spero vi piaccia spero che i passaggi siano stati chiari in caso contrario potete scrivermi benissimo qui nei commenti non c'è nessun problema qualsiasi critica va benissimo l'importante che sia costruttiva io accetto tutto anche i non mi piace li accetto l'importante che siano comunque motivati altrimenti io non capisco cosa va bene e cosa non va bene e niente ragazze vi mando un bacio grandissimo e un saluto ciao